Il premier Giuseppe Conte non si è ritirato dalla corsa per il posto di professore all'Università La Sapienza di Roma. È quanto scrive il sito politico.eu, versione europea dell'omonimo sito giornalistico americano. Il primo ministro italiano Giuseppe Conte, si legge nel quotidiano online non ha ritirato la sua candidatura per una prestigiosa posizione universitaria, nonostante abbia promesso la settimana scorsa di riconsiderare se andare avanti in seguito alle polemiche su un suo possibile conflitto di interessi. Conte ancora in lizza per la cattedra, la sua prova di inglese è stata rinviata a data da destinarsi, annuncia su Twitter Silvia Borrelli, corrispondente di Politico. Il. A rivelare che il premier si trovava in lista per sostenere un esame di Legal English, primo passo per concorrere alla cattedra di diritto privato alla Sapienza di Roma, era stato sempre politico. Il. La domanda, spiegava però il servizio del politico, porta la data dello scorso febbraio, tre mesi prima che Conte ottenesse il mandato e poi, il primo giugno di quest'anno, la fiducia dal Parlamento dopo aver formato il governo. A inizio anno si era avviata una procedura di trasferimento all'Università di Roma, alla Sapienza, confesso che feci domanda, perché, anche avendo un bambino piccolo, ero interessato al trasferimento, ma la mia nuova veste mi impone di riconsiderare.